Sì, è un grande onore avervi qui, benvenuti. Inauguriamo la sala blu di Roma Termini che, come tutti sapranno, è il centro di coordinamento e di assistenza di viaggiatori a mobilità ridotta, oltre che occuparsi anche del viaggio di donne in stato di gravidanza e di anziani. Ci troviamo nella sala blu, all'inaugurazione della sala blu, è un locale nuovo, con piena accessibilità per le persone disabili, ci sono persone disabili visive, motorie, pericordi e qui abbiamo anche l'ingegnere, il direttore, che appunto ha inaugurato questa sala. Abbiamo invitato una persona che porta la pittorina proprio per aiutare le persone con disabilità. E' una persona che porta i bambini, che sono, per esempio, di una clinica, che noi ci riusciamo per supremo, e questa cosa è effettivamente formata, con una risorsa altamente specializzata. Come vedete, sulla pittorina, si può andare aiutare dei viaggiatori di servizio, quindi il direttore è più la scuola di meglio, e il direttore è più il posto di di me. Grazie, ringraziamo, questo significa che già i servizi sono fruibili e quindi anche il servizio Conte è il lente che si sta preparando, offrirà una maggiore accessibilità anche Grazie mille Rete Ferroviaria Italiana, nel rispetto della normativa europea, persegue la sua politica di accessibilità per permettere a tutti di viaggiare serenamente e in sicurezza Attraverso un dialogo costante con le associazioni nazionali delle persone con disabilità e con le imprese ferroviarie, RFI lavora ogni giorno per una sempre maggiore accessibilità a stazioni, treni e servizi, informando gli utenti anche attraverso il suo portale Grazie alle sale blu presenti nelle maggiori stazioni del paese e create per offrire assistenza alle persone con disabilità o a ridotta mobilità, viaggiare da una parte all'altra dell'Italia è diventato più facile www.rfi.it sezione accessibilità stazioni